Ci troviamo a Fiobbio di Albino, presso la scuola dell'infanzia Valle dell'Uio, che è intitolata alla beata Pierina Morosini. Con noi abbiamo la direttrice della scuola, Floria Lovetti, alla quale chiediamo di fare un po' il punto sulla nascita, sulla storia di questa scuola. Allora, come da tanto tempo raccontiamo, è un'esperienza di scuola interparrocchiale. Cioè il nostro parroco di allora in Abbazia, Monsignor Gamba, aveva avuto già questa idea di unificare queste tre piccole realtà di scuole e alla fine nel 2006, con l'aiuto anche di Monsignor Aldo Nicoli, è stato possibile effettuare questo sogno che si è un po' avverato. La scuola raccoglie tutti i bambini nella Valle dell'Uio. In questo anno scolastico abbiamo presente 122 bambini, con 7 insegnanti, 5 che lavorano sulle 5 classi delle sezioni la materna e 2 che si occupano della sezione primavera, la sezione dedicata ai bambini dai 2 ai 3 anni di vita. Diciamo che qui fanno capo tutti i bambini della Valle dell'Uio, quindi Casale, Doscello, Abbazia, Vallalta e Fiobbio. Esatto. Da Casale fino alla Via Pradella, che è un po' il nostro confine della Valle, arriviamo, la nostra utenza arriva su questo territorio. Certamente le cinque parrocchie si sono mosse in questi anni affinché questa esperienza avesse un significato non solo educativo, ma anche pastorale, perché la scuola è gestita dalle cinque parrocchie della Valle. Per cui questo per noi era il primo segno fondamentale di una chiesa che si mette in unità per costruire questa unità di intenti. Nel caso specifico della scuola è un'unità di intenti educativo, naturalmente. Quindi qui è indispensabile anche l'apporto dei genitori e dei bambini. Certamente, perché i nostri genitori sono invitati a raccogliere tutte le possibilità che abbiamo per condividere alcuni momenti dell'anno scolastico. All'inizio dell'anno abbiamo la camminata della scuola, per cui tutti i bambini della scuola materna passeggiano dentro la nostra valle con la partenza sempre qui dalla scuola di Fiobbio. Ma con l'arrivo nelle varie parrocchie della nostra valle. L'anno scorso l'arrivo era stato fatto nella parrocchia di Vallata, dove ci è stato offerto anche il discorso del pranzo. Più avanti abbiamo la festa dei nonni, a Natale abbiamo la cena conviviale della famiglia che viene solitamente fatta nell'oratorio di Abbazia. Poi abbiamo la festa di fine anno, abbiamo la festa della mamma, del papà. In tutte queste occasioni, compreso il carnevale, invitiamo i genitori a condividere questi momenti significativi per la nostra esperienza educativa e progettuale insieme a loro. Un ampio servizio sulla scuola dell'infanzia Valle del Luio andrà in onda nel settimanale Target in programma nei prossimi giorni. Da Fiobvio di Albino, Lina allo studio.